buongiorno a tutti bentornati al mio canale sono orso oggi il 31 di dicembre festeggio alla grande la fine di questo anno malefico trapiantando quattro alberi da frutto non vedo cosa migliore da fare per dare un po di speranza al prossimo anno allora questo è un albero da frutto a radice nuda in questo caso è la pera coscia radice nuda se avete visto l'altro video avrete visto la stessa operazione ma con un albero da frutto in vaso differenza pro e contro entrambi hanno dei pro e contro ovviamente quello in vaso lo si può trapiantare in qualunque periodo dell'anno costa un po di più però c'è appunto il vantaggio poterlo trapiantare anche in primavera e non sotto i rigori del freddo come adesso ci sono tre quattro gradi per contro quello in vaso a qualche difficoltà in più di attecchimento dopo il trapianto soffre un po di più i pregi di questa radice nuda invece sono esattamente il contrario degli altri cioè costa la metà questo l'ho pagato 10 euro ha una capacità di attecchimento maggiore rispetto all'altra versione ed è quello che mi serve perché qui è la quarta volta che metto su un albero da frutto sempre in vaso della quarta volta che mi muore purtroppo ovviamente ho sbagliato io a non irrigarlo in primavera avendolo messo in primavera è arrivato il caldo l'ho lasciato un po abbandonato mettendolo adesso siamo dicembre lui da qui a 45 mesi ha tutta la possibilità tutto il tempo di attecchire inoltre ha piovuto per 45 giorni quindi il terreno è bello bagnato non infatti non gli darò altra acqua e lo terrò così le operazioni da fare sono queste allora dal momento che io al fondo metto sempre dello stralatico pellettato non avendo quello fresco adesso che le radici sono proprio a contatto col terreno è importante più di prima fare in modo che le radici non tocchino lo stallatico pellettato quindi farò uno strato di un paio di chili di stallatico pellettato verranno su tre quattro centimetri metterò uno strato di tre quattro centimetri di terra dopodiché adagero la pianta io ho già preso la misura è importante che il punto di innesto resti fuori dalla terra dal terreno non deve andare coperto dal terreno quindi ho preso la misura tenendo conto che mi dovrò alzare un attimino vediamo dove arriviamo mi abbasso ancora di tre quattro centimetri il foro a un diametro di circa 70 80 centimetri preso le misure anche per quello ok prima di metterlo dimora solo due parole nell'altro video avete visto l'antica tecnica dell'inza fardatura non secchio metto parti uguali di stallatico pellettato e poi dopo di terriccio una volta che l'ho miscelato così è come si presenta vedete le radici sono diventate nere e sono ancora sporche del mix di stallatico pellettato sciolto col terreno col terriccio le lascio così ecco un quattro manciate più o meno dai saranno intorno al chilo chilo e mezzo ecco ora come vi dicevo è importante coprire non so se vedete perché è scuro ecco a questo punto è possibile già fare la misura per tenere fuori dal terreno il punto di innesto se ci alziamo magari di qualche centimetro va bene le radici sono tutte dentro le radici non le ho tagliate alcuni ho visto che tagliano quelle più lunghe io onestamente non le ho toccate e allora vivaista mi ha detto di lasciarla così come di potarla solo nel momento in cui tira fuori le prime foglioline seguirò il suo consiglio lascio tutto così e poi la giusterò strada facendo ecco è importante mano a mano che si mette il terreno di compattarlo anche solo con un piede va benissimo perché scende parecchio non so voi ma a me piantare gli alberi mi fa mi dà molto piacere io a questo punto di solito do ancora una manciata intorno di stallatico personalmente una piccola conca la tengo volentieri la lascio il terreno un po in discesa mi serve per raccogliere l'acqua piovana quando arriva quindi magari visto che c'è ancora una radice fuori ne metto un po di là ecco qua seguo quindi la pendenza del terreno e lascio questa sorta di conca ora visto che siamo in inverno qui per fare un bel lavoro a parte il tutore da mettere sarebbe da pacciamare così da tenere un po al caldo le radici se magari metto un po di paglia dal momento che non ho tutori migliori ci vorrebbero dei palli un po più robusti o solo delle canne e metterò due allora il vento a me tira sempre di là quindi cercherò di stare un pochino sul retro ecco qua adesso lo legherò così uso il cavetto quello lì in cauccio ecco qua adesso vediamo l'ultima fase che è quella della pacciamatura visto che gli altri alberi hanno già beneficiato della concimazione invernale che ho fatto tre settimane fa metto qualcosa anche a questo e poi comunque in primavera lo rifaccio ok allora gli altri alberi da frutto ho già fatto il primo trattamento invernale con la cercherò di non toccare niente volevo togliere soltanto magari i rametti basali ma adesso lo lascerò così non voglio stressarla più di tanto e vediamo subito in primavera se l'inzaffardatura funziona perché dovrebbe partire praticamente subito visto che le radici hanno assorbito sostanze organiche in maniera abbastanza concentrata bene io vi ringrazio per essere stati con me questo video uscirà probabilmente la prima la seconda settimana di gennaio quindi quindi vi faccio comunque gli auguri che riceverete in ritardo questo canale quelli del buon anno ne abbiamo bisogno tutti quanti cerchiamo di tenere duro e cerchiamo di aiutarci nel limite del possibile anche solo virtualmente scambiandoci consigli pareri quindi io credo che sia una buona cosa insomma cercare di stare vicini più possibile in questo periodo grazie per essere stati con me vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo